Al Savini di Notaresco, i Rosso e Blu battono il fan 1-0 e rispondono nel miglior modo possibile alla sconfitta rimediata settimana scorsa con la Vastese, mentre i Granata cadono dopo due risultati utili ottenuti in casa. Gara alle due volti tra le due compagini, un primo tempo lento e prevo di grandi occasioni, mentre la ripresa si rivecizza un po'. All'undicesimo lancia spettacolare di Herrera per Sergers, quest'ultimo rientra sul sinistro ma colpisce l'esterno della rete. Al ventiseesimo calcio di punizione dalla destra sempre per la formazione ospite, di testa staccava Vassori ma la palla finisce sopra la traversa. Al quarantaquattresimo il Notaresco sfiora il vantaggio, dalla sinistra scappa Friedrich che mette dentro un polone perfetto per Dorato, quest'ultimo in sacca in gol ma l'assistente del direttore di gara alza la bagnerina. Nella ripresa parte forte il Notaresco, al quarantottesimo Valenti va alla ricerca del vantaggio, botta da fuori che Olivieri devia in calcio d'angolo. Nel rispettivo corner, dopo una mischia, il numero 10 locale ci riprova un'altra volta ma la palla finisce sull'esterno della rete. Al cinquantasettesimo la formazione di Mr. Epifani passa in vantaggio, Valenti supera i difensori del Fano, paloni in mezzo dove si fa trovare Esposito che con il piatto segna il gol dell'1-0 casalingo. Al sessantatreesimo risponde il Fano, dalla sinistra Likashu tenta una conclusione verso la porta. Shiba devia non benissimo quest'ultimo, sul tapino si presenta il neo in trato variale ma spara alto sopra la traversa. Al sessantasettesimo ancora Fano, Tortori recupera un pallone all'altezza dei 20 metri, questo ultimo conclude ma non c'entra lo specchio della porta. Al settantanovesimo ritorna in avanti il Notaresco, lo fa con Valenti che dal limite dell'Ara tenta una botta sul primo valo ma quest'ultimo non riesce a siglare il gol del raddoppio. All'ottantatreesimo calcio di punizione dalla destra per la formazione di Mister Catalano, una direzione favorisce Likashu, quest'ultimo carica all'estero ma la conclusione è troppo alta per impensare Shiba. Al novantunesimo il Fano tenta il tutto per tutto, Tortori viene servito a limitare l'area di rigore, tenta di segnare il gol del pareggio ma la palla si spegne di qualche metro al lato. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara manda tutti sotto la doccia, il Notaresco batte 1-0 il Fano, Rosso-Blu che si portano a quadra 38 in classifica mentre il Fano dovranno rialzare la testa nel match in casa contro il Monte Giorgio.